E' il turno di Coppa Italia che proietta nella fase calda dagli ottavi di finale in poi con tutte le migliori teste di serie. Federico, portiamo ai nostri microfoni Salamon del Pescara, eccolo sta arrivando. Eccoci per la mini flash, Salamon, un primo tempo dove il Pescara ha retto davvero bene l'urto del Sassuolo è stata difficile ma avete retto bene. Sì, stiamo affrontando bene questa partita e dobbiamo continuare così perché c'è ancora tutto il secondo tempo e il Sassuolo è squadra forte quindi dobbiamo stare concentrati e magari possiamo fare il risultato. Soprattutto ovviamente tanti cambi a disposizione per il Sassuolo dovrete comunque tenere questo ritmo. Sì, per adesso va bene così, poi ovviamente bisogna cercare anche di attaccare un po' e tenere questo ritmo dietro e stare concentrati. Grazie. A te Federico. Bene, dunque abbiamo...